Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qui con un nuovo video, sono Ale e siamo qui con un video di FIFA 14 Ultimate Team come volete vedere ci darà un nuovo DLC che uscirà domani, effettivamente il 29 maggio 2014 sia FIFA 14 Ultimate Team World Cup Experience allora, questo DLC parla, è praticamente un'estensione gratuita di footer allora, si potrà scaricare su tutte le console, Next Generation e Old Generation e riguarda, prendete footer, prendete su questa, su questo, diciamo, DLC, ci saranno nuove, nuove, nuove carte, diciamo, ecco le carte, tutte le 32, le squadre dei mondiali di footer, partecieranno tutte, anche quelle, anche magari, squadre che non ci sono su FIFA, ecco allora, ci sono, ci sono anche, ci sono varie differenze rispetto a foot normale ad esempio, i pacchetti, come vi farò vedere in questa immagine i pacchetti sono diversi, allora, si troveranno tutte le carte in ogni pacchetto si troverà un pacchetto foot, anche lo sai su foot normale ma non c'è nel mercato, i giocatori non sono scambiabili cioè, non sono scambiabili quindi ovviamente ci sarà saranno diversi, è diverso, cioè non c'è nel mercato, quindi non ci sono giocatori e per aprire i pacchetti come dovete fare o FIFA Points o crediti che guadagnate facendo partite e giocando a foot è normale anche quindi con i crediti normali potete aprire potete aprire i pacchetti poi ovviamente c'è c'è un nuovo tipo di intesa che vi spiegherò allora, praticamente nell'intesa vi faccio vedere questa squadra intanto che è come potete vedere sono tutti giocatori diversi ma hanno comunque stessa intesa come potete vedere, perché? guardate un po' l'intesa non si baserà più su squadra ma si baserà sul continente quindi al posto della nazione c'è il continente al posto della squadra c'è la nazione quindi come vedete tutti i giocatori europei possono giocare benissimo insieme ci saranno ovviamente nuove, diciamo, nuove cose ad esempio i kit saranno tutti quelli mondiali ci saranno anche tutti i vabbè, il pallone brasuco e lo stadio di un maragana poi per giocare ci sono vari tipi di gioco c'è ad esempio il torneo che è, praticamente, il torneo che parte dalla dalla fase a gironi che è il torneo mentistori e poi si fa l'animazione diretta e si gioca così poi magari ci stanno le solite partite online ma non c'è stagione ovviamente perché non si potrà giocare con gli amici poi inoltre mancano giocatori che ovviamente non sono stati convocati quindi non ci sarà non ci sarà le vantabosche non ci sarà ma ci saranno quelli convocati allora è gratuito per tutte le console abbiamo già detto non si potrà guardare la web app quindi solo per la console può usare non si potrà giocare con gli amici ci sono delle differenze sì perché alcuni giocatori hanno dei downgrade che ad esempio vi farò vedere dopo come pirlo come ad esempio oddio boh ora non mi viene in mente pirlo poi alcuni invece sono stati upgradeati come ad esempio la velocità di barzai è stata upgradeata quindi l'ultima cosa ci sono anche i man of the match internazionali sì in senso che ogni volta che un giocatore giocherà bene praticamente verranno aumentare le sue statistiche automaticamente quindi mettiamo voi avete Messi Messi diventa l'international man of the match gli aumentano le statistiche e direttamente in tutto il World Cup aumenteranno le statistiche di Messi quindi diciamo che è come se fosse un cliff reale diciamo così un cliff diventa reale niente ragazzi penso di avervi detto tutto vi farò vedere ci saranno comunque le foto diciamo di pacchetti e cose varie e niente io vi saluto vi ringrazio per il taglio di aver raggiunto dei 100 iscritti e ci sentiamo a un prossimo video e bello a tutti ragazzi ciao